Questo è il clima di New York in questi momenti. Fuori di qua! Fuori di qua! Ti offri un goccetto, amico. Ce l'hai una canna? È stata istituita una linea telefonica riservata al caso del cacciatore di testo. Ehi, Rockefeller, ti è piaciuta Candy? Dice che ti piacciono i giochetti strani, eh? Non parlarmi mai. Scherzavo. No, senta, io non volevo mica... Non ti azzardare mai più a rivolgermi la parola. Sono stato chiaro? Sì. Bravo. Io spero che qualcuno ti stacchi la testa, brutto stronzo. Posso fare qualcosa per te? Eh, tu! Piantala!